Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel, oggi ho l'onore di ospitare il dottore Andrea Ricci e di parlare con lui del metodo di conservazione degli alimenti, argomento che assolutamente di grande interesse per quanto mi riguarda, ma sicuramente interesserà anche voi e sentiamo direttamente dalla sua voce insomma come bisogna conservarli dottore. Sì, allora abbiamo pensato per questa puntata appunto di fare un escursus sui metodi di conservazione degli alimenti, in effetti è un qualcosa di cui l'uomo ha sempre sentito la necessità sin dalle prime popolazioni stanziali, questo perché ovviamente aumentare la durata degli alimenti era qualcosa che ha servito sin da subito, ovviamente per conservare un alimento questo deve conservare le sue proprietà organolettiche, nutrizionali e igieniche, quando viene a mancare una di queste proprietà ovviamente l'alimento può essere fonte di infezione, di intossicazione. Già dal paleolitico, diciamo dalla natura stessa l'uomo imparò ad utilizzare per esempio la salagione oppure l'essiccamento al sole o a sfruttare il freddo, poi si incominciarono già con i romani, i greci ad utilizzare altre sostanze, quali per esempio il miele, l'aceto, l'olio oppure isolare dall'aria la frutta per esempio ricoprendola di cere oppure di resine. Questo però ovviamente andava un po' ad intaccare quello che era il profumo, il sapore originario degli alimenti, però fino al medioevo non ci furono grosse variazioni, se non che dopo la scoperta dell'America ci fu l'introduzione dello zucchero e quindi questo permise di conservare la frutta sotto forma di canditi. Però i grandi cambiamenti si ebbero solo poi dal 1700, questo un po' perché si incominciarono a capire quali erano le cause del deterioramento degli alimenti e un po' perché già a partire da un pasticcero francese che si chiamava Aper notò come riscaldando gli alimenti in acqua bollente e poi chiudendoli in maniera ermetica in un vaso questo se ne poteva prolungare la durata. Ovviamente questa che era la prima forma di sterilizzazione poi fu perfezionata nel tempo, quindi arrivando alla conservazione nella latta e alla chiusura ermetica appunto dei vasi. Nei primi del 1900 questo poi si rivelò molto utile per esempio con la prima guerra mondiale perché ovviamente c'era la necessità di portare grandi derrate alimentari all'esercito ma anche per trasportare alimenti dalle colonie alla mentrepatria e viceversa. Chiaramente dopo la seconda guerra mondiale con l'avvento dell'industrializzazione si sono incominciate a utilizzare tutta una serie di sostanze chimiche, quelle che possiamo definire gli additivi alimentari. Ovviamente queste vanno dai coloranti, dai conservanti, gli esaltatori di sabidità e sono quelle sostanze che troviamo sulle etichette segnalate con la sigla E ed un numero. Ovviamente queste sono delle sostanze che non apportano nulla di nutrizionale all'alimento, ne devono alterarne il profumo e il sapore ma servono per uno scopo tecnologico. Oggi l'industria sembra non più poterne fare a meno. Chiaramente nonostante devono essere qualcosa di assolutamente certo, che non deve interferire con la salute, ne devono avere delle proprietà farmacologiche, devono essere sempre indicati in etichetta, nonostante i rigorosi controlli a cui sono sottoposti e anche controlli periodici, ovviamente non abbiamo mai, diciamo, non c'è una sicurezza assoluta sulla salubrità oppure sul loro essere innocui per la nostra salute, anche perché ci sono stati dei recenti studi americani che per esempio hanno messo in correlazione l'utilizzo di alcuni additivi alimentari e lo sviluppo e la crescita dei bambini. E quindi, insomma, quando possiamo farne a meno è sicuramente meglio. Come? Sicuramente imparando a leggere le etichette, quindi a evitare tutta quella serie di prodotti industriali, commerciali, in cui c'è un gran numero di utilizzo di queste sostanze, ma anche preferendo, per esempio, dei prodotti biologici. Bene, noi ringraziamo il dottor Andrea Ricci e vi consigliamo assolutamente di seguirlo perché i suoi consigli sono preziosi.